Finalmente state per sposarvi? Wow! E allora noi vogliamo aiutarvi a rendere ancora più bello il vostro matrimonio. Siamo anche noi una coppia, una coppia di musicisti professionisti, e vi proponiamo l'animazione musicale della vostra celebrazione. Brani tradizionali o lodi più moderne. Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore. Scegliete voi, o facciamolo insieme. Ogni pezzo lo personalizziamo e lo rendiamo speciale nell'arrangiamento. Santo, santo, santo signore, figlio dell'universo. Se avete bisogno, ecco i contatti, oppure lasciateci un messaggio sul nostro sito. Intanto buon tutto e un mare di auguri. Ciao!